Così vuoi un'altra storia, eh? Una in cui è in gioco il destino stesso di Pandora. Se non vuoi uguale, te la racconto comunque. Prima cosa, c'era la cripta. Una prigione aliena da aprire con una chiave mistica. Ai guerrieri che l'aprirono, la cripta non concesse che tentacoli e delusione. Scomparvero nel deserto, sicuri che la cripta non contenesse alcun tesoro. Si sbagliavano. L'apertura della cripta innescò la creazione di Eridium, un preziosissimo elemento alieno, che ben presto emerse su tutto Pandora. La sua comparsa attrasse molti, tra cui la Hyperion Corporation. Arrivò su Pandora per estrarre l'Eridium e per portare l'ordine su questo selvaggio pianeta. Grazie agli scavi, l'Hyperion scoprì le tracce di una cripta ancora più grande. Il suo capo giurò che l'avrebbe trovata e che avrebbe usato il suo potere per civilizzare il pianeta una volta per tutte. Ma l'Hyperion non era l'unica a cercare il potere alieno della nuova cripta. È difficile resistere al richiamo del pericolo e del bottino. Guerrieri arrivarono su Pandora a frotti per scoprirne i segreti. Alcuni li chiamano avventurieri, altri li chiamano stupidi. Ma io preferisco chiamarli... Cacciatori della cripta. La nostra storia inizia con loro. E con un uomo di nome Jack il Bello. La nostra storia inizia con loro. La nostra storia inizia con loro. La nostra storia inizia con loro. Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Io sono Imur e oggi siamo su Borderlands 2. In realtà questo qua è il secondo video che faccio. È un video uguale, preciso. Un video uguale perché ho provato a... A creare un personaggio. Vediamo se mi dà lo stesso nome, se posso metterlo. Speriamo perché se no, guarda. Questo qui. Ho scelto questo, perfetto. Vediamo se... Ok. Ho fatto un video in cui non si sentiva l'audio, quindi l'ho dovuto rifare. Vabbè, poco importa. Bene. Bene. Un altro cacciatore della Crypto è morto. C'è che si è dato da fare? Aspetta un attimo. Non sei morto? Sì! Ora potrò andarmene dal ghiacciaio. Club Trap! Sembra che la tua fortuna sia cambiata. Permettimi di presentarmi. Sono un robot steward CL4PTP. Ma gli amici mi chiamano Club Trap. O lo farebbero se fossero ancora vivi. O esistessero tanto per cominciare. Oh! Ho qualcosa per te. Ecco. Prendi questo comunicatore ecco che non ho certo preso da uno dei cadaveri. È dotato di un'interfaccia di classe 12. Con tanto di mini mappa. Ma adesso vieni, vieni. Vediamo di portarti al coperto. Che spettacolo! Ora che ho incontrato... Va bene. Ho trovato una reliquia di Diana. Le reliquie danno bonus minori per aspetti specifici del personaggio. Ci sono molti tipi di reliquie. Cerca di trovarne una che sia adatti al tuo stile di gioco. Un cacciatore della Crypto potrò unirmi alla resistenza a Sanctuary. Vetticarmi di Jack per aver distrutto tutti i miei simili e riparare il mio processore. Così smetterò di pensare a voce alta. Mi chiedo come sia avere un ombelico. Ok appunto. Presto ti spiegherò tutto. Ma sappi questo. Sei vivo per un motivo e io sono qui per aiutarti. Assomiglia un po' a Ordiz di Warframe. Che dice cos'è a caso perché è programmato un po' male. Va bene. Jack il Bello mi ricorda Giovanni di altri giorni e Giacomo. Non so perché. Forse perché... Forse perché nel Sirano di Bergerac lui era il Bello. Va bene. Allora siamo qui. Noi dobbiamo prendere... Aprile qualche cassettina. Ah no aspetta. Scusa per il casino ma Jack scarica qui tutto quello che uccide. Banditi, cacciatori della cripta, clattrap. Se ti sembro contento è solo perché i programmatori mi hanno dato questo tono di voce. Sono piuttosto depresso però. Sai le creature qui attorno sono pericolose. Ma nessuna più del bully mong knuckle tracker. Ha ucciso tutti quelli che conosco. Comunque in quell'armadietto tengo una pistola per le emergenze. Ma qui dovremmo essere al sicuro. Questo è il knuckle tracker? Siamo ciechi. Vabbè ti aiuto io qua. Fermati. Fermati. Ok prendiamo questa qua. Poi abbiamo. Jack il bello mi fa ridere tantissimo. Tranquillo sei tu. A parte il dolore atroce. È fantastico. Aspettavo solo che un potente cacciatore della cripta mi aiutasse a raggiungere centuries. Io sarò il saggio capo e tu? Limpati da un tiranniere. Non posso usare. Tutte le cose luminose sono accessibili. Va bene. Che facciamo? Andiamo? Ma... Va bene. Va bene. Va bene. Qui davanti. Però aspetta. Coldini. La cassettina. Voglio prendere tutto quello che c'è per il momento. Pieno. Vabbè sono pieno. Perfetto. Vediamo se c'è qualche... Qualche arma diversa. Questa porta è una porta. Ah. Questo ti fa spostare. Bene. Perfetto. Vai. Vai. Dritto. Ho detto dritto. Ok. Qua si spara. Scommetto che troveremo i gnocchi a Frostbite Trevasse. Qua si spara. Rimani vicino al robot. Ti aiuterà ad andartene dal ghiacciaio e ad arrivare alla città di Sanctuary. Allora se... È l'unico posto in cui sarai al sicuro. Se premiamo premuto... Se teniamo premuto prendiamo tutto. Altrimenti con... Un attimo. Se premiamo un tasto solo... Questa volta solo a tanto E. E... Premiamo solo un oggetto. Quindi... Ho capito. Paura. Bullying. Muovetevi. Eh... In questa... In questa missione c'è un indicatore di zona. Gli indicatori di zona indicano la posizione generale dell'obiettivo. Ma devi prelustrare l'aria per trovarlo. Perfetto. Adesso... Adesso... Andiamo. Un po' lento nel caricamento. Caricata più velocemente. È bello. Che poi moriamo se no. E che ci vuole? Se riprendiamo il mio occhio non arriveremo mai a Sektori. Questo cosa? Sei debole? Fai di sicuro meglio di un placebo. Ripristina istantaneamente il 25% della salute si usa quando si raccoglie. Ah, ok, quindi... Ancora? Jack sta facendo a pezzi Pandora per trovare la cripta. Dicono che siano i suoi scavi a causare quei terremoti. O quello o tua mamma è scesa dal letto. Ah! È bastardo. Soprirà l'aiuto di quel robottino simpatico per raggiungere Sektori. L'ultimo bastione della resistenza contro Jack è l'unico posto in cui sarai davvero al sicuro. Ok. Raggiungi Sektori. Mi piace questa grafica tutta cartonesca, mi piace tanto. Questo qua potrebbe essere un gioco, è bello perché è un gioco che secondo me è sempre giocabile. Questa è questa grafica tutta. Ora tirami fuori di qui prima che ne arrivino altri. Grazie amico tra gli amici! Anzi! Qui non ci possiamo volare. Ehi là! Parla Jack, il presidente dell'Itefion. Ma Jack il bello? Arriva un cacciatore della cripta, cerca la nuova cripta, viene ucciso da me. Vedi qual è il problema qui? Sei ancora vivo. Quindi se potessi farmi un favore di ammazzarti sarebbe perfetto. Grazie, Risori. Oh mamma mia quanto si sente questo. Quanto se la sente calda. Vabbè non ti preoccupare, poi la vedo io. Oh, il mio occhio si è riacceso. Vedo un tirapiede dell'aspetto minaccioso. È un bellissimo robot. Il che significa che chi ha il mio occhio è molto vicino. Va bene. Primo boss. Piccolo boss sicuramente, ma primo boss. Con i piedini piccoli. Oh, non mi lanciare piedi. Sono senza munizioni? Andiamo di qua perché... Così ci prendiamo la munizione e ci siamo pure un po' curati. Siamo scarsi scarsi Dobbiamo prenderla a pugni in faccia E muori vaffanculo Sei appena salito di livello Quando sali di livello aumentano in maniera permanente la tua energia E il danno che infliggi Inoltre energie a scuoli Ritorno immediatamente al massimo Per favore riprendi il mio occhio Oh e mi scuso per aver detto sfintare i murali Mi capite che hai il mio occhio? Ottimo Ora dobbiamo trovare qualcuno che me lo rimetta Ma no Se sono certo che vorresti piantarmelo a pugni nel teschio Meglio lasciare l'operazione a un professionista Ci penserà A capirlo All'Earthburg Allonsi Guarda te lo spingerai dentro con tutta la forza che posso Se vuoi Se me lo permetti Ok E mi dici di attraversarla amico Prima dai 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 Però vediamo una cosa prima Se io faccio Esci Ah salve dash Ok allora facciamo una cosa Disto che abbiamo fatto 17 minuti di gioco Allora vediamo dove si arriva Ok aspetta un attimo Rilevati inclusi Blocco la porta Eh a capirlo Bravo Bravo Beh è stato bello conoscerti Ho sentito dire che farsi mangiare vivi dai bullimong non è male Ci penso io Esecuzione cambio di fase Non c'è problema Sono benefici di un'intelligenza artificiale Sono connessa quasi a tutto su questo pianeta La strada per Sanctuary è lunga Prendi tutto ciò che ti serve per il viaggio Allora io direi di fermarci qui Questo è il primo episodio Stai calmo Ti sparo nell'occhio che non hai Ehm Ci vediamo qua Primo episodio fatto Salviamo E ci vediamo al prossimo episodio ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi Mettete mi piace E commentate Ma soprattutto iscrivetevi Perché Dobbiamo arrivare a Dobbiamo arrivare a 500 iscritti 400 Siamo 400 adesso eh Non siamo pochi Però 500 è meglio 500 è nettamente meglio secondo me Quindi ragazzi Forza Avanti con quel Con quei like Avanti con quei commenti Mi dovete dire Ehm Non adesso ancora Però più in là Mi dovrete aiutare tantissimo con questo gioco Perché non ne ho idea Non ho idea di che cosa sto facendo praticamente Ti dico cosa farò Stai calmo Ti sparo porca troia Quindi ragazzi Per questo video è tutto Ci vediamo al prossimo Ciao a tutti